Nella legge di stabilizione Nella legge di stabilità c'è una vera svolta nel diritto allo studio. Per la prima volta la piramide è completa. Così il ministro per l'istruzione Stefania Giannini ha l'inaugurazione della residenza Carlo Mollino nella cittadella Politecnica di Torino. L'abbiamo incontrata per capire quale potrebbe essere il futuro della scuola italiana. Fondazione Falciola, Politecnico di Torino e Miur inaugurano la residenza universitaria Carlo Mollino. L'edificio è aperto agli studenti dall'inizio dell'anno accademico in corso, con un anticipo di 4 mesi rispetto ai tempi previsti. L'opera, costata 6 milioni di euro, è stata cofinanziata dal ministero per l'istruzione e dal Poli. All'ospedale Molinette di Torino è stato salvato un uomo di 49 anni con un doppio intervento al cervello, in seguito a due gravi ictus in meno di 24 ore. Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione regionale Monitor. Apriamo con la politica. I magistrati della Procura e della Corte dei Conti, che indagano sui conti del Comune di Torino e di due società partecipate dell'ente, Infra, To e GTT, si sono incontrati questa mattina per uno scambio di documenti e per fare il punto sull'inchiesta. Al centro degli accertamenti c'è il cosiddetto disallineamento tra i crediti vantati da Infra, To e GTT e quelli che risultano al Comune, una massa di denaro virtuale che ammonta una quarantina di milioni. L'ipotesi di reato formulata dai pubblici ministeri al momento a carico di ignoti è quella di falso in atto pubblico e riguarda l'approvazione del rendiconto 2015. Tra i punti da chiarire, secondo i magistrati che stanno analizzando l'ampia documentazione raccolta nel corso di un blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali, bisognerà capire se le due partecipate sono soggette alle norme sulle società private o sulla finanza pubblica. I testimoni verranno ascoltati solo in un secondo momento. Nella legge di stabilità c'è una vera svolta nel diritto allo studio. Per la prima volta la piramide è completa. Così il ministro per l'istruzione Stefania Giannini ha l'inaugurazione della residenza Carlo Mollino nella cittadella Politecnica di Torino. L'abbiamo incontrata per capire quale potrebbe essere il futuro della scuola italiana. Quale sarà il futuro della scuola italiana? Sarà un futuro bello ci auguriamo, fatto di tanti contenuti nuovi. Il futuro della scuola è il futuro della società, questa è una società che cambia rapidamente. Noi stiamo cercando di far sì che la scuola continui ad essere il punto di riferimento del cambiamento intellettuale, culturale e quindi sociale del paese. Questo è in tutti i paesi il principale punto di responsabilità politica e culturale di chi si occupa di istruzione. Le novità quali saranno? Quelle che conoscete, insomma. C'è una legge che è stata approvata lo scorso anno e ha introdotto cose importanti, innovative, l'alternanza scuola-lavoro, la scuola digitale, la formazione obbligatoria strutturale per gli insegnanti, un piano eccezionalmente grande, vasto, di lungo termine per l'edilizia scolastica che non era stato mai varato dai governi che ci hanno preceduto per decenni. Quindi un programma ambizioso che poi ha toccato anche un tema, una piaga storica del paese precariato storico e che quindi deve naturalmente fare i conti ora anche con qualche complessità di gestione. Un messaggio agli studenti? Io penso che la scuola insieme e dopo la famiglia sia il punto di riferimento sociale più importante, è il luogo in cui si impara a stare anche con gli altri, che forse è la cosa più bella e complessa della vita e quindi agli studenti studiate e siatene appassionati qualunque sia la vostra vocazione. Il punto della situazione è sulla sicurezza nelle scuole. Il governo ha assunto questa responsabilità come una responsabilità prioritaria e primaria dall'aprile del 2014 varando un piano per l'edilizia scolastica che non ha precedenti nella storia del paese. Sono 6 miliardi e 690 milioni i fondi destinati, in gran parte già spesi nel primo bienio e in altra parte in corso di stanziamento e o spesa. Gli interventi sulle scuole sono ad oggi 13 mila già realizzati. Quando parlo di interventi non parlo solo del tema della sicurezza strutturale, ma parlo dell'adeguamento degli edifici, tutto quello di cui un patrimonio edilizio che come sapete per la metà, un pochino più della metà risale come costruzione degli edifici a prima del 1974 e che quindi aveva bisogno di un monitoraggio e un anagrafe assolutamente indispensabile per capire dove intervenire. Abbiamo fatto anche questo, in maggio di quest'anno abbiamo presentato e reso pubblica l'anagrafe dell'edilizia scolastica, ora abbiamo tutti gli strumenti per operare, certamente a partire dal controllo dei controsoffitti che è uno dei temi purtroppo più pericolosi. Chiaramente sono interventi che richiedono tempo, quindi non ne stiamo perdendo nemmeno un minuto anche sugli eventi sismici più recenti, però è chiaro che non c'è per nessuno una bacchetta magica che faccia spezzare un pulsante e metta tutte le scuole italiane nella condizione ideale. Diciamo che stiamo facendo un grande e rapido lavoro. Fondazione Falciola, Politecnico di Torino e MIUR inaugurano la residenza universitaria Carlo Mollino. L'edificio è aperto agli studenti dall'inizio dell'anno accademico in corso, con un anticipo di quattro mesi rispetto ai tempi previsti. L'opera, costata 6 milioni di euro, è stata cofinanziata dal Ministero per l'Istruzione e dal Poli. Il Politecnico di Torino inaugura la nuova residenza universitaria Carlo Mollino. È una struttura fatta da appartamenti, 104 posti, destinati per due terzi a studenti vincitori di posti di studio dell'azienda Veritorio Studio e un terzo a studenti normali frequentanti l'università. Noi siamo portatori di un concetto gestionale fondato sulla relazione, Quindi il punto decisivo di questa residenza è che c'è un punto sempre di contatto e di relazione con una responsabilità di un direttore, in grado poi di aiutare gli studenti nel corso del loro studi. È stata realizzata con elevati standard qualitativi. Cosa significa? Vuol dire innanzitutto che dal punto di vista strutturale, a tutte le garanzie per il procedere, dal punto di vista anche energetico, è stata concepita secondo le ultime innovazioni tecnologiche. Anche dal punto di vista del colore e della logistica è sempre concepita nell'ambito di un prodotto di qualità che favorisca sempre la relazione. Un luogo anche di aggregazione. Assolutamente. Oggi gli studenti cercano una community e vorrei dire che ciò che ci differenzia, noi come competitor, noi siamo il competitor principale in Italia, con 7.000 studenti dagli altri competitor europei, che invece fanno dello studente un soggetto, un oggetto di business. È già abitata come residenza? Assolutamente sì, quasi piena ormai. Non abbiamo fatto a tempo ad aprire. Studenti stranieri, italiani? Sì, ce ne sono il 20%, i straniere. Quali servizi offre? I servizi sono sicuramente dalla reception, dalla direzione, tutta la parte di servizi dentro, quindi utenze, tutto ciò che non viene pagato qualcosa fuori dal canone, dalla retta. La tecnologia al servizio degli studenti? Assolutamente sì, e l'idea del, prima fra tutti, il web. Il web viene usato oggi in maniera completamente differente, quindi è ovvio che anche questo è stato impostato secondo le ultime richieste ed esigenze che cambiano, come voi sapete, almeno ogni tre anni. Rettore, l'inaugurazione di una nuova struttura universitaria dedicata a una figura importante come Carlo Mollino. Sì, è un momento importante. Torino è una grande città universitaria, ma per attrarre studenti di talento ci vuole certamente la qualità degli studi, ci vogliono anche dei servizi e delle residenze adeguate. Questo è un modello di collaborazione pubblico-privato, siamo riusciti a concludere con il finanziamento del Ministero, con quattro mesi di anticipo questa struttura, che mi sembra molto apprezzata da parte degli studenti. Non basta ancora, bisogna farne altre. Perché Carlo Mollino? Beh, perché Carlo Mollino è stato un grandissimo professore del Politecnico di Torino, un grandissimo architetto, e io credo che la reputazione di un'atenio o di un'università si fonda essenzialmente sui suoi grandi allievi, sui grandi scienziati, sui grandi professori che ci sono stati. Questo serve anche a ricordare agli studenti che staranno in questa residenza quella che è la nostra tradizione. Continuiamo con la cronaca. Un pizzino e un messaggio su Facebook hanno liberato due donne dai rispettivi compagni violenti arrestati dai carabinieri. Dopo essere stata picchiata per l'ennesima volta dal marito, la donna, 45enne, ha lanciato dalla finestra di casa un biglietto con una richiesta di aiuto. Mi ammazza, chiama il 112. Una vicina ha trovato il foglio e ha allertato i militari. Per l'uomo, fermato dai carabinieri di Barriera di Milano, sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata all'ospedale Giovanni Bosco per una frattura del setto nasale. Varca addirittura ai confini italiani la storia invece di una donna di 24 anni da Montpellier, dove viveva col marito e la figlia di un anno. Ha raccontato via Facebook le violenze subite ai genitori residenti a Chieri, nel Torinese. Il padre ha allertato i militari che, grazie al lavoro della Sala Operativa Internazionale e la collaborazione della Polizia Francese, sono riusciti ad arrestare l'uomo, un marocchino di 29 anni. Un'auto si è ribaltata nel centro di Torino dopo essere stata urtata da un'altra vettura che procedeva in senso opposto. L'incidente, questa mattina, davanti al Palo Giustizia in Corso Vittorio Emanuele. Praticamente illesa la conducente, una donna trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Martini a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo mobile della Polizia Municipale che hanno rilevato l'incidente. Si è finta addetta dell'ASL per derubare una novantenne cuneese. Una stigiana di 55 anni è stata arrestata dalla Polizia per il reato di furto aggravato. Aveva preso gioielli e orologi per 800 mila euro. In una prima fase ha avvicinato l'anziana in strada con la scusa di chiederle informazioni sullo recapito della tessera sanitaria. Ma la novantenne ha capito il raggiro e si è allontanata. Tre giorni dopo la ladra si è presentata a casa. Non c'era la proprietaria, soltanto la governante che è stata completamente soggiogata dalla truffatrice. Facendo finta di cercare documenti ha trovato la chiave della cassaforte e rubato i preziosi. La ladra è stata identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in città e incastrata dai tabulati telefonici. È stata arrestata al casello autostradale di Asti Est di ritorno da Valenza dove aveva cercato di vendere una collana. Passiamo ora alla pagina di economia. Sostenere e valorizzare l'agricoltura made in Italy. Lo ha chiesto col diretti Piemonte incontrando l'assessore regionale Giorgio Ferrero. Abbiamo approfondito con l'assessore Ferrero un'ampia serie di aspetti che costituiscono la progettualità necessaria per il rilancio dell'economia agricola e per dare impulso alla ripresa del settore spiega Degli Arevelli presidente di col diretti Piemonte. Il confronto si è basato su argomenti di primaria importanza per le imprese quali la sburocratizzazione la gestione delle risorse del piano di sviluppo rurale la necessità che la regione acceleri ed intervenga nella valorizzazione delle filiere. Sullo stato attuale del piano di sviluppo rurale in particolare abbiamo rievidenziato continua Revelli alcune richieste riguardanti le misure agroambientali quelle sugli investimenti e gli insediamenti per i giovani con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili viste le numerose domande presentate. Guardando al futuro abbiamo ribadito la necessità di aver garanzie sull'apertura dei nuovi bandi affinché ulteriori aziende possano beneficiare dei finanziamenti. Passiamo ora alla pagina legata alla società. All'ospedale Molinette di Torino è stato salvato un uomo di 49 anni con un doppio intervento al cervello in seguito a due gravi ictus in meno di 24 ore. È rarissimo ma può succedere ed è accaduto a Torino alle Molinette. Nell'arco di 24 ore la stessa persona è stata colpita da due gravi ictus. L'uomo in buona salute martedì scorso ha accusato un primo ictus cerebrale manifestando problemi di linguaggio e paralisi degli arti di destra causato da una lacerazione della parete dell'arteria. Il paziente è stato sottoposto presso l'ospedale di Rivoli alla somministrazione di un farmaco trombolico per via endovenosa secondo le recenti linee guida dell'ictus cerebrale. Essendo l'ospedale Molinette il riferimento per l'ospedale di Rivoli secondo il modello regionale Spoken Hub l'uomo è stato tempestivamente inviato presso il servizio di neurologia interventistica diretto dal professor Mauro Bergui. L'uomo è stato quindi sottoposto ad un intervento di trombectomia eseguito con successo in modo da recuperare il deficit neurologico. Il pomeriggio successivo durante l'esame di controllo in ospedale si è verificato però un problema causato dalla recidiva con grave sofferenza ischemica del cervello e con la ricomparsa di gravi disturbi di parola e paralisi degli arti di destra. L'uomo è stato subito sottoposto ad un secondo intervento di riparazione della carotide mediante posizionamento di stent e rimozione dell'embolo intracerebrale. Attualmente è ricoverato nella stock unit delle molinette sotto osservazione e in buone condizioni di salute anche se ancora un lieve disturbo di linguaggio. Questa è un'ottima notizia per il parco della salute a testimonianza del fatto che la ricerca di metodi di cura sempre più all'avanguardia è essenziale per garantire un ottimo sistema sanitario. Questo episodio attesta che l'ictus cerebrale è una patologia curabile se si ricorre tempestivamente alle moderne tecniche di chirurgia. Svolta nella diagnosi anche al primo sospetto clinico del tumore prostatico in Italia la seconda neoplasia più diffusa dopo il tumore al polmone con 200 casi ogni 100.000 abitanti e 40.000 nuovi casi diagnosticati all'anno. Merito della target biopsi mirata sulle lesioni. Secondo uno studio del professor Francesco Porpiglia ordinario di urologia del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino ospedale San Luigi Gonzaga grazie all'utilizzo della risonanza magnetica prostatica questa tecnica consente di identificare l'eventuale presenza di aree sospette per tumore all'interno della ghiandola rendendo possibile l'esecuzione di biopsie mirate e riducendo il numero di prelievi inutili i risultati dimostrano una maggiore diagnosi di tumori con un numero inferiore di prelievi il che si traduce in una diagnosi più accurata meno biopsie meno rischi per il paziente e in una riduzione dei costi per il sistema sanitario i risultati di questo studio supportano l'uso della target biopsi mediante fusione di immagini anche al primo sospetto diagnostico di carcinoma e sono la testimonianza dell'efficacia del modello di rete spiega porpiglia questo nuovo percorso diagnostico e le imminenti innovazioni tecnologiche in questo ambito oltre a migliorare la qualità della diagnosi contribuiranno a meglio definire la strategia terapeutica passiamo ora alla pagina di cultura Torino ritorna capitale del contemporaneo con l'inaugurazione della nuova luce d'artista prende infatti il via Contemporary Art speciale autunno tra le innovazioni proprio la nuova luce d'artista che racconta la città attraverso il coinvolgimento di chi ha un account Instagram e lo userà per pubblicare le proprie fotografie con l'hashtag Mosaico Torino a luci d'artista nel mese di novembre si affiancano Artissima The Others è paratissima tra i momenti più attesi sabato 5 novembre la notte delle arti contemporanee il mese di Contemporary Art a Torino qual è il calendario quest'anno? il calendario è sempre molto 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 vario nel senso che partiamo con l'inaugurazione di luci d'artista e andiamo avanti per tutto novembre e anche dicembre il calendario è molte delle iniziative che sono già conosciute Artissima Club to Club poi abbiamo Moviment abbiamo iniziative di The Others abbiamo Paratissima quindi come dire quelle storiche ce ne sono nuove come Next come il festival della grafica del design abbiamo più di 20 appuntamenti di design design da tour a visite a workshop e seminari abbiamo Torino Film Festival c'è il Sotto 18 c'è l'arte pubblica quindi è un calendario di oltre 200 e oltre appuntamenti che vanno dalla musica al cinema al teatro tutte le arti visive anche contaminate e intrecciate qual è il sito internet per tutte le informazioni? il sito internet è il sito di Contemporary Art www.contemporaryart Torino-Piemonte dove si troveranno tutte le iniziative della città tutte e anche aggiornate di volta e volta in caso di cambiamento Contemporary Art Torino-Piemonte Torino-Piemonte Contemporary Art a Torino comincia il mese delle arti contemporanee tanti appuntamenti Artissima Lucida Artista The Aders e Partissima cosa significa per la città? per la città significa un momento importantissimo di dialogo tra le arti contemporanee e la città e tutte le persone che verranno a Torino per scoprire artisti per scoprire musica per scoprire i musei che insieme ci regalano un mese davvero eccezionale si potrà partecipare alla notte delle arti contemporanee il 5 novembre che ormai è un appuntamento storico di Contemporary Art ed è molto interessante il modo di lavorare perché tutti musei organizzazioni artistiche fiere lavorano per rendere Torino un momento per restituire a Torino un momento importante di festa collettiva cosa cambierà in città? avremo tanti spazi animati con musica con colori con con artisti e cosa cambierà nel futuro? cambierà il fatto che vorremmo che non ci si limitasse a parlare di arte contemporanea al mese di novembre ma che diventi una delle cifre della vita culturale della città come tradizione anche quest'anno la città di Torino si prepara a celebrare la ricorrenza dei defunti che vede una novità nei cimiteri cittadini la presenza dei giovani e i senior per Torino per la prima volta infatti le persone che andranno a rendere omaggio ai loro cari potranno contare sull'assistenza di volontari che grazie all'aiuto di tablet potranno dare informazioni o accompagnare la tomba ricercata sono una sessantina scusate sono una settantina ad aver risposto all'iniziativa del comune in visita ai nostri cari per la ricorrenza sono in programma la messa ufficiata dall'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia il primo novembre al cimitero Parco e il corteo delle autorità il due novembre al monumentale dal 30 ottobre al primo novembre inoltre i cimiteri cittadini ospitano la rassegna corale Ricordar Cantando un modo di vivere il cimitero che va oltre il dolore che va oltre il dolore sottolinea l'assessore comunale Marco Giusta ma come luogo di riflessione di algo con la città e valorizzazione della cultura torinese a partire dai suoi beni come i cimiteri monumentali e la città aggiunge l'assessore ricordando anche il recente protocollo d'intesa siglato col MIBAC a livello nazionale vuole promuovere sempre più questo tipo di fruizione incentivando momenti come letture concerti o spettacoli teatrali naturalmente sempre nel rispetto della sacralità del luogo secondo i dati i cimiteri italiani di potenziale interesse turistico sono oltre il 55% del totale europeo e il Piemonte è la quarta regione a livello nazionale andiamo a Quaregna ora in provincia di Biella la passerella per la sfilata a favore della lega italiana lotta al tumore l'evento rientra nell'ambito del mese nastro rosa Lilt per la prevenzione del tumore al seno applausi e grande successo di pubblico al polivalente di Quaregna nella serata dedicata alla Lilt e alla donna proposta dalla sindaco Katia Giordani e da Jennifer Brusson della Dreams Eventi l'appuntamento ha ospitato anche l'intervento di Giovanna Pratesi organizzatrice del ballo delle debuttanti di Stresa la serata è trascorsa secondo il titolo della serata ovvero principessa per una notte infatti sono state le donne del paese o di paesi limitrofi a tirare fuori dagli armadi gli abiti del matrimonio a rimetterli in sesto e a sfilare tra gli applausi dei presenti in un lungo percorso storico di abiti dagli anni 40 ad oggi interventi sentiti sinceri anche di Laura Vivian che ha raccontato i benefici della pratica yoga per l'organismo e di Daniela Alberici Mancini vicepresidente della Lilt che commenta il successo dell'evento Certo fa parte delle manifestazioni organizzate nei vari comuni proprio per sensibilizzare la popolazione durante il mese di ottobre l'ottobre in rosa ormai da tanti anni da più di vent'anni viene portato avanti anche dalla Liltedbiella proprio per prevenire il cancro al seno con le nostre visite che sono visite senologiche oppure in caso di un ulteriore accertamento anche attraverso le apparecchiature di ultimissima generazione l'ecografo di ultimissima generazione che possiede Spazio Lilt riusciamo a dare una risposta importante a centinaia di donne le centinaia di donne che hanno affollato i nostri ambulatori in questi giorni e che continueranno a farlo mi auguro tutto l'anno ma principalmente durante l'ottobre chiudiamo con una scusate chiudiamo con una notizia di sport martedì primo novembre a Cavour si svolgerà la decima edizione della Apple Run una 10 chilometri nazionale di corsa su strada la manifestazione sarà occasione anche per la terza edizione della Fit Walking Nordic Walking la quota di partecipazione è di 7 euro con la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso dell'evento sino alle ore 9.15 del mattino la partenza della corsa scatterà poi alle ore 9.40 in Corso Marconi verso Piazza del Peso ulteriori informazioni sono sul sito www.upperrun.it era l'ultima notizia grazie per l'attenzione buon proseguimento con GRP nella legge di stabilità c'è una vera svolta nel diritto allo studio per la prima volta la piramide completa così il ministro per l'istruzione Stefania Giannini all'inaugurazione della residenza Carlo Mollino nella cittadella Politecnica di Torino l'abbiamo incontrata per capire quale potrebbe essere il futuro della scuola italiana Fondazione Falciola Politecnico di Torino e Miur inaugurano la residenza universitaria Carlo Mollino l'edificio è aperto agli studenti dall'inizio dell'anno accademico in corso con un anticipo di 4 mesi rispetto ai tempi previsti l'opera costata 6 milioni di euro è stata cofinanziata dal ministero per l'istruzione e dal poli all'ospedale Molinette di Torino è stato salvato un uomo di 49 anni con un doppio intervento al cervello in seguito a due gravi ictus in meno di 24 ore Meu ragzo hariii amico un luogo all'inizio still qui o Grazie.